chi è gesù cristo a differenza di qualsiasi altro essere umano prima di nascere sulla terra gesù era una persona spirituale e viveva in cielo fu la prima creazione di dio e contribuì a creare tutte le altre cose essendo l'unico a essere stato creato direttamente da geova viene chiamato figlio unigenito di dio gesù agì quale portavoce di dio per questo è anche chiamato la parola gesù era più che un uomo buono ha influito sulla storia umana più di chiunque altro notate cosa hanno detto di lui questi famosi storici scrittori gesù di nazareth è sicuramente il personaggio più importante della storia gesù è il personaggio più influente che si ha mai vissuto su questo pianeta e la sua influenza continua a crescere la bibbia spiega perché gesù ha influito sull'umanità più di qualsiasi altro uomo buono quando gesù chiese ai suoi più stretti seguaci chi pensavano che egli fosse uno di loro rispose correttamente tu sei il cristo il figlio del dio vivente perché gesù venne sulla terra dio mandò suo figlio sulla terra trasferendo la sua vita dal cielo nel grambo di una vergine ebrea di nome maria quindi gesù non ebbe un padre umano gesù venne sulla terra 1 per insegnare la verità riguardo a dio 2 per dare l'esempio nel fare la volontà di dio e 3 per dare la sua vita perfetta come riscatto perché abbiamo bisogno di un riscatto il riscatto è un prezzo pagato perché una persona venga liberata vecchiaia e morte non facevano parte del proposito originale di dio per l'umanità come facciamo a saperlo dio disse al primo uomo ad amo che se avesse commesso ciò che la bibbia chiama peccato sarebbe morto se non avesse peccato ad amo non sarebbe mai morto anche se la sua vita non terminò che secoli dopo inizia a morire il giorno in cui disubbidi a dio ad amo trasmise a tutti i suoi discendenti il peccato e la pena che esso comporta la morte così per causa sua la morte entrò nel mondo del genere umano ecco perché abbiamo bisogno di un riscatto perché Gesù morì chi poteva pagare il riscatto per liberarci dalla morte quando moriamo ognuno di noi paga la pena per i propri peccati nessun uomo imperfetto può pagare per i peccati degli altri dal momento che non aveva ereditato l'imperfezione da un padre umano Gesù morì non a motivo dei suoi peccati ma per i peccati degli altri il fatto che dio mandasse il suo figlio a morire per noi fu un'espressione del suo straordinario amore per l'umanità anche Gesù mostrò amore per noi ubbidendo al suo padre e dando la sua vita per i nostri peccati cosa sta facendo Gesù ora guarendo i malati destando i morti e salvando le persone dal peccato e dalla morte Gesù dimostrò quello che infine avrebbe fatto per tutta l'umanità ubbidiente dopo che Gesù era morto Dio lo riportò in vita come persona spirituale poi Gesù aspettò alla destra di Dio fino a quando Dio non gli diede il potere di governare come re su tutta la terra ora Gesù sta regnando in cielo e i suoi seguaci stanno annunciando la buona notizia in tutta la terra presto Gesù userà il suo potere regale per porre fine a tutte le sofferenze e a coloro che le causano milioni di persone che esercitano fede in Gesù e li ubbidiscono vivranno su una terra paradisiaca se vuoi saperne di più in descrizione c'è un link più dettagliato sull'argomento Grazie a tutti